Stalking, storie di un crimine ordinario, è il titolo del nuovo libro saggistico del criminologo e attivista Antonio Russo. Un titolo, quello del saggio edito dalla casa elettrice leccese Quederni del Bardo Edizioni, che è candidato ad essere uno dei più efficaci libri di prevenzione verso una grande piaga sociale, la violenza contro le donne in tutte le forme nelle quali essa viene esercitata. Partendo da un completo excursus storico, giuridico e criminologico, il libro Stalking, storie di un crimine ordinario, si rivela essere un vero e proprio manuale per il profiling e la prevenzione della fattispecie criminologica.